Web spettatori, buongiorno. Anche a Firenze due giorni vi assemblee non stop per illustrare il DDL scuole in discussione alla Commissione Cultura. La Gilda Fiorentina denuncia la volontà di Renzi di andare a passo di bulldozer, vincolando il legittimo diritto dei precari alla stabilizzazione e a nonne che, delle linghe comprese, potrebbero arrivare alla totale dismissione dei principi fondanti della scuola pubblica. Lo slogan che ha acheggiato durante le assemblee è stato Noi non vi votiamo più. È in collegamento telefonico Silvana Boccara, coordinatrice provinciale della Gilda di Firenze. Buongiorno professoressa, com'è stata la partecipazione? È stata superiore anche a ogni più rosea previsione, perché nelle due giornate sono confluiti, nelle assemblee che sono durate comunque dalle 8 alle 4 e mezzo del pomeriggio, circa 4 mila docenti. Non entravano nella sala, erano per strada e nei giardini adiacenti. Secondo gli insegnanti, quali sono i punti critici della riforma? Allora, se vogliamo sintetizzarli, quello che li attraversa tutti è questa esagerata centralità, discrezionalità del dirigente, con lo scandalo che opera nella cosa pubblica con maggiori poteri di un amministratore delegato senza avere rischio di impresa. Un dirigente che sceglie la squadra, l'assume, la pregno e non rinnova i contratti. Per caduta a tutto questo, chiaramente i due momenti di grande disagio sono sentiti da un lato dai precari, sia quelli di delegare, perché se prendiamo la scuola dell'infanzia non ha nemmeno una certezza in realtà di stabilizzazione con la delega dello 06, sia quelli di classi di concorso difficili o in esubero, senza contare il disastro che si è creato sulla seconda fascia con 80.000 persone a rischio di totale licenziamento, di andare a finire in mezzo a una strada. Quindi questi sono ovviamente i punti più importanti, ma anche il merito, la valutazione, il fatto che il dirigente scolastico entri addirittura nel merito delle scelte didattiche e formative, questa prospettiva di poter rimanere a lavorare solo compiacendo il dirigente, ha naturalmente e trasversalmente preoccupato tutti perché va a smaturare completamente quello che deve essere un contesto educativo, didattico e di collaborazione, mentre invece si metteranno le persone, si rischia di mettere le persone in totale competizione l'una con l'altra e naturalmente con un'incertezza che non sempre può essere risolta con il lavorare bene, perché potrebbero prodursi dei metodismi, delle conferenze e delle scelte che nulla hanno di oggettivo. Ora che la proposta di strancio dal DDL e della parte riguardante l'assunzione dei precari è stata bocciata in commissione dalla maggioranza, cosa pensate di fare? Allora, intanto su questo la reazione è stata più che negativa, addirittura chiedendo che non passi niente, se deve passare il pacchetto intero, questo detto anche dai precari. Dopo la manifestazione programmata per il 18, a Firenze ma probabilmente a livello anche di regione toscana, si sta pensando a delle iniziative di piazza, quindi non so, delle ciaccolate, una notte bianca, insomma delle iniziative che coinvolgano quindi tutto il personale della scuola e non solo, perché anche i comitati dei genitori si unirebbero. In più anche le altre segreterie, visto anche la richiesta della base forte e univoca, vorrebbero andare a uno sciopero unitario della scuola. Oltre a questo è emersa con chiarezza una minaccia rispetto al voto, in Toscana si vota sulle regionali e lo slogan che è uscito dalla base è noi non vi votiamo più, perché ovviamente sono governi già sperimentati e questo governo in modo particolare è riuscito a sintetizzare in questo DDL le peggiori proposte di tutti i governi precedenti. Insomma una rivolta degli insegnanti. Una vera e propria rivolta che ancora sta nascendo e quindi dobbiamo vederla ancora deflagrare. Ringraziamo la professoressa Boccara dallo studio di Genda TV, un saluto e alla prossima giornata. Buonasera. Arrivederci.